Allora va definito subito chi è in realtà il vero potere. È importante definire questa cosa, lo dico subito all'inizio della serata, perché lo scopo di questi miei video, della scorsa serie di questa serie, è di far capire alle persone contro chi veramente bisogna combattere. Perché se continuiamo a combattere contro il cortiletto del potere, le marionette del potere, non risolveremo mai i nostri problemi, infatti non li stiamo risolvendo.